Torna a vivacizzarsi il mercato del Foggia e per Brambilla c'è un nuovo tassello. Alla corte del tecnico rosso-nero arriva il centrocampista Davide Mazzocco, da ieri sera già in città. L'ormai ex Avellino è un nuovo calciatore del Foggia e va ad arricchire numericamente una mediana che necessita almeno di un altro puntello. Il 29enne di Feltre ha collezionato una novantina di presenze in B e nella passata stagione si è diviso tra Avellino e Latina. 13 presenze e due gol con i Laziali, dove è giunto a gennaio. Il Foggia, in questi ultimi giorni di calciomercato tuttavia, dovrà reperire almeno un altro centrocampista oltre ad un attaccante. Per la prima linea, trattativa avanzata con Cianci del Catania, l'arrivo eventuale dell'ex barese potrebbe spalancare le porte della cessione per Santaniello, richiesto dal Picerno. Nel frattempo la squadra prepara il debutto in campionato di lunedì sera, quando allo Zaccheria Millico e i compagni sfideranno l'ambizioso Trapani di Torrisi. Sulla via del recupero i centrocampisti Danzi e Bezzoni, tempi ancora lunghi per il lungodegenti Marzoppio e Carrillo. Nel cuore della difesa, lunedì sera agiranno ancora Parodi e Camigliano, con Ercolani provato terzino-sinistro. Sulla tre quarti invece è destinato a trovare posto dal primo minuto Emmausso, sacrificato nella gara di Coppa col Monopoli e al quale Brambilla preferì Orlando. Domenica la rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi dell'allenatore di Vimercate.